Per quest'anno il Luna Park a Tiatino della festa patronale di San Giustino, celebrato l'11 maggio a Chieti, cambia altitudine. Da fine aprile a fine maggio le 38 giostre del Parco dei Divertimenti saranno dislocate dall'abituale Palatricale e agli spazi antistanti lo Stadio Angelini a Chietiscalo. Il trasloco, motivato da ragioni di pubblica sicurezza, non è stato però esente da polemiche alimentate nei giorni scorsi, soprattutto sui social da chi è in disaccordo sulla lontananza del Luna Park dal luogo centrale della festa, individuato simbolicamente con il campanile di San Giustino. Carla Di Biase, Assessore al Commercio e le Attività Produttive del Comune di Chieti, quali sono le ragioni di questa scelta? Ricadono sulle nuove norme di ordine pubblico e sicurezza. Naturalmente il fatto che la festa del patrono, patrono di tutta la città, questo mi preme ripeterlo, comunque molto sentita e Chieti Alta, ci faceva lasciare il tricale come zona di compromesso. Però la concomitanza con i play-off del basket hanno fatto sì che la questura ha emanato una nota in cui sollevava il problema dell'ordine pubblico e della sicurezza relativo alle vie di fuga. E quindi abbiamo cercato delle aree dove collocare, non le gioste, perché questo è il problema, un Luna Park. Naturalmente abbiamo dovuto trovare una soluzione di compromesso, abbiamo vagliato più aree, quindi gli altri luoghi non permettevano uscite di sicurezza, cordono umano dei vigili del fuoco e l'arrivo dell'ambulanza. E cosa si sente invece di rispondere a chi polemizza, soprattutto tanti cittadini, insomma, che le giostre dovevano stare a Chieti Alta e non a Chieti Scalo? Io credo che solo quando inizieremo a avere una visione della città a 360 gradi diventeremo realmente forti. Inoltre non ravviso nessun problema sui collegamenti, Chieti Scalo è meglio collegata anche a Chieti rispetto al Tricalle e l'uno passerà ogni quarto d'ora. Nella stazione ci sono i collegamenti per lo Stagio Angelini, con una fermata dell'autobus antistante. San Giustino, l'11 maggio, è la festa di Chieti, quindi di tutti i quartieri. Naturalmente non mancherà la festa sul colle perché in piazza ci saranno delle esibizioni canore, non mancheranno i festeggiamenti adiacenti alla Chiesa che ha il nome del patrono.